Buongiorno, buongiorno! Come va? Come va che veneto in questi giorni di primavera e estate? Ma va benissimo! Adesso è in preparazione appunto un film con la Marisona questo King Kong contro Dante Alighieri, no? Invece adesso lei vorrebbe fare un film sempre con la regia di Mino Guerrini Beh, certo, vorrei vedere chi altri potrebbe... La Marisona è la parte principale Ma pensa... Sì, poi Maria Pia Casiglio che fa... Maria Pia Casiglio? Sì, che fa la donna di servizio della Marisona Ha un recupero ruolo del genere, con un recupero D, mi pare Esatto Ha un recupero, un recupero della... Sì, Dante Maggio che fa il parre della Marisona Tiberio Murgia che fa il fidanzato Il fidanzato della Marisona Sì, il fidanzato geloso, no? Perché lui è siciliano Sì, è siciliano Scomparirà sotto tutta quell'abbondanza della Marisona Esatto E infatti sì, abbiamo fatto dei provini Ma come fai a sapere? E adesso Mino Guerrini gli metterà dei tacchi Poi c'è Franca Marsi che è la rivale della Marisona Ah, la ex Miss Italia Sì, Tamara Lee che invece... La straniera Sì, la straniera Perfida, lei in generale Sì, e poi Barbara Stil che è la maga Dove vanno a farsi fare le carte Ma un attore e un'attrice un po' più moderni Non c'è un po' più... Eh sì, c'è Roberto Rizzo Roberto Rizzo Rizzo, sì Rizzo Ah, Rizzo, sì, sì, sì Ah, quello è il carabiniere di Pane Mora e Gelosia Sì, sì Eh, Roberto Rizzo Poi c'è Sorrentino Sorrentino che fa il portiere Il portiere dello stabile Sorrentino Ah, simpatico, caratterista E poi Carlo Delle Piane Che fa il cascherino Quello che porta il pane, no? Questo col naso un po' storto Esatto, col naso storto Molto caratteristico Manca la gomma New Orleans Jazz Band E poi ci sono tutti Sì, no, ci dovrebbe essere... Flipper No, Jimmy Fontana che canta Cia 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 dell'impiccato Ah, carino Sì, perché gli è piaciuto molto la Mary Gli hanno fatto sentire Come faceva che non ce lo ricordiamo? Cia 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 dell'impiccato Non me lo ricordo più Ah, ah Va bene, insomma Ma è un film che si... Beh, è una specie di revival Sì, appunto Allora il primo giro di manovella Dovrebbe essere tra pochi giorni Dopo con la manovella Sì E Mino Guerrini ha chiesto Un anticipo di 5.000 lire Alla Mary Non è grave, no? Sa che non c'è più la manovella Alle cineprese Ah, non c'è più? È simbolico Ah, sì, sì, è simbolico A meno che Guerrini Non giri ancora con la cineprese Beh, no, lui ha una macchina vecchia Per allenarsi a casa, no? Ah, sì, sì Senza pellicola Perché lui ogni tanto organizza dei... Con la scusa dei provini, no? Invita delle ragazze E poi va sempre a finire male, però O bene, chissà No, no, e gli menano Oppure lo denunciano Cosa del genere Direi di passare alla musica Che ne dite? Beh, subito così Il traffico, eh Popopopopo Popopopo Popopopo Gelatti, gelatti Via Veneto Stop Via Veneto Via Veneto Questa è una trovata di Gildo Tu sei la perla Della mia città Via Veneto Via Veneto Via Veneto Anche più lunga La dolce vita Più lunga Via Veneto Via Veneto Via Veneto Via Veneto La dolce vita È lungo È lungo Troppo Via Veneto Con i barsi Gagare Luci che sta D'occheggiare È sovrato, eh Sei la perla Della lì Tutti vogliono Vivere qui Via Veneto Tutte va Filalino Via Veneto Tutti via Veneto Via Veneto Tu sei la roccia Della mia città Ehi maestro Grazie maestro Può bastare Grazie Si è emozionato Si è emozionato Maestro Sotto il piano Maestro Non si cagare L'unica è stata Che già C'è la perla Della lì Tutti vogliono Vivere qui Via Veneto Goodbye Finale Tutti insieme Via Veneto Good Bye Ciao 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 Maestro Maestro Mi ha combinato Maestro Buongiorno Buongiorno